La cerimonia Come consuetudine, si è svolta a covercia no? Il tecnico bianconero ha commentato il premio Ringrazio tutti ma soprattutto la società e i giocatori, sono loro che vanno in campo e vincono le partite. Per me è sempre un piacere essere qui, sono emozionato come sempre. Il merito, ripeto, è sempre di tutti quelli che lavorano con me, sono molto fortunato ad avere uno staff che lavora molto bene e mi toglie molto lavoro. Allegri ha una missione portare la Champions League a Torino. L'obiettivo è cercare di vincere l'ottavo scudetto e poi questa benedetta Champions. Vediamo se avremo un pizzico di fortuna dalla nostra parte. Panchine d'argento Panchine d'argento per Aurelio Andrea Zoli Il tecnico, esonerato dall'Empoli una settimana fa, è stato premiato per la promozione in Serie A, alla guida del club Toscana. Andrea Zoli ha ricevuto 30 voti e ha staccato Roberto Cinquecentesima Versa, tecnico del Parma, e Filippo Inzaghi, l'anno scorso alla guida del Venezia. Il miglior tecnico della Serie C è invece Paolo Zanetti 11 voti davanti a Fabio Liverani 10.Desktop Menore di spend class uguale Notification barra Spangazzetta Share x link Copia embed Copiati potrebbero interessare anche Security warning Please treat the url above as you would your password and do not share it with anyone See the Facebook Help Center for more information. Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento ha consenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clicca qui.accetto.